Ho presentato la documentazione del certificato elettorale di documenti d'identità mie e di mia figlia al Presidente con un certificato ASL che mi autorizzava ad entrare nella cabina per fare esercitare il voto a mia figlia e chiaramente il Presidente, vista la documentazione, mi ha autorizzato ad entrare in cabina, come previsto da legge. Improvvisamente, mentre mi accengevo ad entrare nella cabina, una signora non identificata al momento mi gridava che io non potevo entrare in cabina con mia figlia e che mia figlia doveva votare da sola. Non era la prima volta che accompagnava all'interno della cabina elettorale la figlia disabile, ma mai gli era capitato di vivere una situazione così incresciosa che ha richiesto anche l'intervento dei carabinieri. E' accaduto lunedì mattina all'Istituto dell'Edda Lecce. La signora per circa mezz'ora ha continuato ad inveire contro padre e figlia, dicendo che lui non poteva accompagnarla. Il ribadivo che chiaramente mortificava me nel ruolo di genitore, ma anche la prevese di mia figlia, perché intanto si creava un capannello intorno al seggio di gente che chiaramente si godeva questo spettacolo indegno. Accorrevano anche i carabinieri e lei ancora ribadiva per la terza volta che io non potevo entrare. Alla fine sono riuscita ad esercitare il proprio diritto di voto, ma resta l'amarezza per quanto vissuto. Da quello che ho capito non era neanche rappresentante di lista, non era neanche residente a Lecce, quindi non aveva nessun diritto di stare in quel seggio. Non mi sarei mai aspettato eventualmente una reazione con vemenza e ledendo la privacy, ripeto, di mia figlia, che è un fatto molto grave, e anche mia, di genitore e di accompagnatore. Denuncio questo perché nessuno si può prendere il diritto eventualmente di togliere liberamente il diritto di voto a un genitore accompagnatore di una ragazza disabile.